E' il treniere ovunque il titolo della sessantesima edizione della Biennale d'Arte presentata questa mattina a Cagliustiniana a Venezia dal presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto e dal curatore dell'esposizione internazionale Adriano Pedrosa, il primo direttore della Biennale d'Arte proveniente dal Sud America in 60 edizioni. Tra i lati significativi della presentazione anche la presenza tra il pubblico del futuro presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco seduto e interessato in prima fila tra il pubblico accanto al direttore generale Andrea del Mercato e alla vice direttrice Deborah Rossi. Buttafuoco al termine però non ha rilasciato alcuna dichiarazione per rispetto verso il presidente in carica che rimarrà in serie fino a fine febbraio. E' un grandissimo onore per me essere il curatore di questa Biennale d'Arte, della Biennale d'Arte di quest'anno ma essendo anche io, essendo soprattutto il primo curatore proveniente dal Sud globale, dal Brasile, mi sento anche una grandissima responsabilità sulle spalle. A Venezia, essendo una città tra le più importanti, tra le più famose del mondo, una città molto turistica, questo titolo straniero ovunque prende un altro significato appunto perché a Venezia è fatta di stranieri. La popolazione nei picchi di alta stagione aumenta di tre volte ovviamente. Oltre 330 gli artisti, 90 padiglioni nazionali, la mostra sarà aperta a pubblico dal 20 aprile al 24 novembre, tra i giardini e l'arsenale. La preparazione è stata intensa soprattutto per il curatore perché ha veramente fatto un paio di volte il giro del mondo, come abbiamo visto dalla scelta degli artisti, i paesi rappresentati nella sua mostra sono tantissimi. Le presupposte erano dare uno sguardo da una prospettiva diversa da quella eurocentrica, per questo lui è anche il primo curatore che viene dal Sud America, al tempo stesso non trascurare l'arte degli altri paesi e portare molta bellezza.